L'Aquila ha lavoro per preparare la prima delle ultime 5 gare di campionato da cui passerà la salvezza degli uomini di Perrone. Domenica pomeriggio si va a Prato con il ricordo nel cuore delle 309 vittime del terremoto di 7 anni fa. Dopo la commemorazione del 6 aprile, anche prima del fischio d'inizio, gli uomini di Perrone ricorderanno i morti del sisma, scendendo in campo con uno striscione preparato dai familiari delle vittime. Per il rosso-blu potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo extracalcistico per accentrare la vittoria, regalare un sorriso ai tifosi e avvicinare l'Aquila alla salvezza. Questo è il pensiero anche di uno dei protagonisti annunciati, l'esterno d'attacco o all'occorrenza fantasista Vittorio Triarico. Questo giorno per l'Aquilano è un giorno molto triste e noi siamo fortunati di giocare subito dopo tre giorni e dovremmo cercare di regalare un sorriso a tutti gli aquilani. Intanto sul fronte formazione a Prato mancherà per la squalifica il centrale difensivo Giordano Maccarrone. Il tecnico Carlo Perrone dovrebbe però confermare la 3-5-2 inserendo in difesa uno tra Sanni e Bruno nel trio davanti al portiere Scotti. Sulla fascia è probabile l'esordio di Christian Chirieletti, fresco di tesseramento, mentre in avanti stanno salendo le quotazioni di Andrea Mancini per una maglia dal primo minuto.